Alla Biblioteca della Regione a Torino, fino al 6 settembre, la mostra Lo specchio di un'epoca, le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Deco. Curata dalla collezionista Silla Boella, la rassegna propone una raffinata serie di esemplari, espressione della chiara valenza artistica che la cartolina illustrata assunse tra la fine dell'Ottocento e gli anni Trenta del Novecento. Sono le mie cartoline, le ho raccolte in vent'anni, le amo una per una, mi piacciono, mi piace leggere cosa c'è scritto anche, infatti molte sono viaggiate proprio per questo, perché esprimono veramente i sentimenti di un'epoca. Il linguaggio poi è diverso, però i sentimenti sono uguali, i sentimenti che abbiamo adesso li avevano allora, di gioia, di amore e anche di tristezza.